Johnnie's Goldies Un placer con los papi con el famoso artista nacional, también con su toque internacional, su nombre está Shanti, acompañándonos hoy tarde en Johnnie's Goldies. Shanti, buenas tardes, bienvenida al show. Buenas tardes, Johnny, ¿cómo vas? Cuéntanos un poco de vos comienzos como artista. Bueno, me ha comenzado, era muy joven más joven, me pensé que era un 3 o 4 años, me ha comenzado a bailar en piruillo, que me ha comenzado como bailarina, y me ha formado a ver cantante. ¿Algo importante del asunto de cantamiento aquí, Shanti? Por ejemplo, ¿cuál es la primera canción infantil que verdaderamente va a lograr un auge de parte del público en el momento? ¿Cuál es la segunda canción? Sí. ¿Cuál es la segunda canción? Pues, ¿cuál es la segunda canción? che non ha cominciato il potenziale ora mi ha competito in Califso con Rotomarch e mi ha ganato con una canzone che si chiama Roll Your Belly che si chiama Roll Your Belly è stato un stile arabic dance che si chiama è stato un impatto e non è stato un potenziale però che è stato un potenziale che è stato un stile di canzioni è stato un bachata un merengue bachata è stato un stile di musica o che è stato un altro è stato un stile che mi ha cantato turco mi ha cantato un po' di verse che mi ha cantato un po' di turco che non ha qualcosa di più ancora qui che mi ha cantato il gienerio mi ha cantato un po' di gienerio e comunque il tempo è stato un po' di più e non è stato un po' di ripartire però al momento non c'è un gienerio ma è stato un po' di turco ma è stato un po' di turco ma è stato un po' di gienerio è stato un po' di gienerio ma è stato un po' di gienerio la canzioni è stato un po' di gienerio non c'è un po' di gienerio non c'è un po' di gienerio a parte di Aruba, Antilles, Caribe non c'è un po' di gienerio ma non c'è un po' di gienerio ma non c'è un po' di gienerio ma è stato un po' di gienerio che c'è un grande sogno come artista, Shanti? come è un sogno come artista? beh, questo è il mio sogno di più grande è arrivare all'internazionale non conoscere a Shanti non conoscere a Shanti ma un mondo completo un mondo completo e qual è il paese con cui conquistare? questa è la latinoamérica e la merca non è facile c'è un mercato molto diverso ma è scendente e due e nel Carribe la Repubblica Dominicana, Puerto Rico anche la offerta di Aynan abbiamo un radio tour planare per la Repubblica Dominicana abbiamo un radio tour planare in Centroamérica anche? corretto abbiamo un radio tour planare di un altro pa' Santo Domingo però niente concreto ancora abbiamo un radio tour planare in Centroamérica con un'artista speciale? sicuramente sì e canta internazionale in Centroamérica un'artista speciale e l'alma e poi arriva e poi arriva in Centroamérica e poi arriva in Centroamérica e poi arriva in Centroamérica un'artista speciale un'artista speciale non ci si chiama e poi arriva in Centroamérica che venne non stanno deliberando e ora vuoi llegare a Repubblica Dominicana non ti in alcun preparazione bo di renta, televisione dominicano tam e pan ammiravo rondi il paese? corretto, è stato il quale non stiamo bezzato con è perché la verità non è facile abbiamo un po' connexion con tutte le cose in cada un'altra perché è la misma bezzato che non stiamo traggendo per assinare a noi per make that happen per tenere chanti tam e arriva televisione è fu e qui non solo si no, così è vero più grande e poi non tam e poi si riconosci con chi è chanti chanti, nel final di l'entrevista mi teniamo un minuto papi, qui è il popolo voi stai ascoltando tu riconosciando o stai ascoltando 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 qui c'è un mensaggio specifico come che era dirigito o stai ascoltando mi chiamo avisa uno si bati un sogno put your mind to it per sobra con il bolo e lo grele mi tam e t'autocina per me mi tam e t'autocina mi t'autocina se riconosciando mi lo grele se riconosciando o stai ascoltando però una vez che puoi mettere il bolo e lo grele e poi mettere quindi ragazzi se hai qualcosa mettere il bolo e lo grele grazie a tutti per visitare i tardi di Johnny's Gold e il nostro deseo obiexito del presente e futuro grazie a tutti grazie a tutti per l'opportunità e si il nostro feedback sicuro grazie a tutti